Sono vecchio, ma non così tanto. Sai quando il barolo diventa... diventa importante? Permento, ha mangiato bene? Mangiato bene, adesso manca caffè amaro che è un passaggio obbligato. Io sono molto curioso, a parte che carico. Sarà la prima volta per noi, ma anche per tanti di loro. A dopo. Yeah, Pancresi in Dao, è già Pancresi in Dao, senza in onda. Oggi sono qua e non sono da casa mia. Che figata, che figata. Hai già intervistato, Paretta? Fallo subito perché tra dieci minuti non è più in grado di intendere di volere. Si ricomincia, si ricomincia la musica. La musica ci farà rivivere. Robert TV. Vieni, vieni, vieni. Allora, come ci si prepara? Sessione fiati, gente concentrata. Lui suona con la sordina, adesso la leviamo e facciamo la mista. È un camerino abbastanza ordinato. No, ma è un camerino abbastanza ordinato. Le mani nel sacco! Che invidi andare a scuola con in tasca una pistola Che scivoli dal fianco e che si infili sotto il banco Nell'ora di intervallo provocare un bel macello Altro che merendine, lì si spara sul pidello Ieri sono Topolino, confico è l'uomo ragno Ma il mito è l'ispettore, la 44 magno Legittima difesa, il coppo accidentale Sono storie ormai passate e rientrano, è normale Mamma mia! Che f***a che caldo! Non mi abituarti, che caldo! Merita per te! Voglio armarmi con le armi Voglio armarmi Voglio armarmi! Ha tanto meno una cannetta Ma sei considerato se sai usare la veretta La libertà è una statua Con cura fu innalzata Tentando di nascondere un'america malata Ma il loro pezzo forte...